Ok, allora la registrazione dovrebbe essere iniziata, speriamo che venga, perché una volta vi ricordate che non era venuta. Quindi benvenuti di nuovo a tutti. Allora questa e come vi avevo accennato l'ultimo incontro esplicito che facciamo almeno come incontro diciamo di discussione e di formazione. Quindi da ora in poi magari ci sentiremo forse ancora un'altra volta per vedere qualche risultato o per mostrare eventualmente le vostre creazioni se riusciamo a organizzare una serata. Magari anche con gli altri gruppi, no? Perché a Gigliola mi sembra che ci siano anche altri gruppi, altri corsi che hanno finito in questo periodo. Non so se Gigliola mi sente. È tipo il gruppo di Sapiè che ha fatto il corso sulle riprese. E poi sì, mi sa che praticamente state facendo tutti i corsi. Vi ringraziamo per questo. Non che noi come al solito ci guadagniamo niente, ma è sempre entusiasmo, vedere l'entusiasmo vostro. Ci aiuta. Vabbè, se non ci sento aspettate un attimo che provo a vedere se riesco. No, è andata via. Pazienza, vedrà la registrazione. Dunque, cosa dicevamo? Allora, ultima lezione, quindi l'incontro di Blender. Questo incontro era dedicato all'architettura. Vi ricordate che l'architettura in maniera molto semplice e molto, molto elementare. Quindi noi stiamo facendo delle cose che sono fattibili con Blender di base, sostanzialmente. 1, 2, 3, provo a accendere l'audio qua. Chiara, tu mi senti adesso che è acceso l'audio in E2 3D? 1, 2, 3. Chiara, ci trevi? Non mi senti. Allora, evidentemente chi non mi sente o chi dice che non mi senti sentirà poi la registrazione. Sì, però, Chiara, l'audio viene comunicato anche su Zoom, quindi se non lo senti da Zoom, probabilmente non hai dato l'abilitazione all'uso dell'audio su Zoom. Comunque, adesso non c'è problema. Eventualmente qualcuno di voi se mi sente doppio, perché magari mi senti anche su E2 3D. Ma sei su Zoom? Ecco, grazie Lori. Quindi qui c'è sempre un attimo di piccola, diciamo, sincronizzazione per capire un po' come si è omessi. Stavo dicendo, ultima lezione. Magari questa sera, se riusciamo, vi accompagno anche in Archilandia, perché alcuni di voi non l'hanno trovata. Comunque, giusto per capirsi, Archilandia è il posto in cui, non è obbligatorissimo, ma se volete la distinzione dovete caricare, dovreste caricare comunque una stanzina, qualche cosa in Archilandia. E per trovare Archilandia dovete cliccare su la mappa qui di Firestorm. Altri viewer, se per caso li usate, hanno una cosa equivalente. E qui basta che scrivate Archiland e avete Archiland. E Archiland è questo pezzo qua. Non ci vado in questo momento, magari verso la fine della lezione, che tra l'altro stasera non la farò, credo, lunghissima. Così, visto che siete tutti un po' sconvolti, anche me compreso, magari ci riposiamo anche un attimino, però cerchiamo di fare un repilogo delle cose che abbiamo fatto. Allora, cosa abbiamo fatto in queste settimane? In realtà abbiamo fatto moltissime cose. Infatti, se andiamo sul nostro corso, che è questo qui, vedete che ci sono nel corso di Architettura con Blender, abbiamo sostanzialmente tantissime cose. Abbiamo fatto anche qualche cosina sulle mappe geografiche, che però ho visto che è stato seguito soltanto da due persone. In realtà non è proprio Architettura, però tenete conto che alcuni corsi di architettura che ho visto su Blender partivano proprio dall'ambientazione su mappe geografiche. Quindi l'idea che avevano era quello che si costruiva un terreno, quindi tipo una collina, montagna, eccetera, e poi si spianava un pezzo di questa collina e sopra si costruiva completamente una casa. Adesso noi non siamo arrivati proprio a quel livello di sofisticazione, però comunque avevo dato del materiale per poter costruire, se necessario, insomma anche qualche rilievo. Adesso non mi ricordo esattamente i video che ho pubblicato sulle mappe geografiche, comunque ci sono vari sistemi per farle, ma insomma adesso se poi, insomma, siete interessati anche su Facebook magari li ripetiamo e vediamo un attimo che come funzionare. Poi creare un semplice vase partendo da un cilindro, credo, questa cosa qua, è stata l'attività che è stata fatta da Eva e di questi vasi sono stati costruiti, almeno effettivamente visti 21, quindi molti di voi li hanno fatti, molti intendo, beh 21 sono già di più di quelli presenti qua. Quindi l'attività di Eva è stata molto apprezzata e oltretutto credo che sia stata un pochino la base anche dell'intervento, o comunque una delle basi dell'intervento che ha fatto Giovanna Giannone a Firenze la settimana scorsa. Poi Giovanna magari mi corregge. Quindi è un'attività quella di fare un vaso che è molto gratificante e che Giovanna ad esempio le ha deciso di insegnare come fare un vaso, non la texturizzazione, ma la modellazione di un vaso a persone, ragazzini, ragazze, personalità, non c'ero lì, quindi magari lo può dire Giovanna, lo può scrivere in chat qua. Ragazzi, al secondo liceo scientifico quindi stiamo parlando di quindicenni, quattordici, quindicenni? Sì, quindicenni che hanno reggito in maniera entusiasta e sono riusciti nell'arco di un'oretta, credo che abbia impiegato un'ora e mezza complessivamente, ma suppongo che di netto dell'incontro abbia fatto un'ora, perché di solito c'è sempre un po' un lordo da togliere. Quindi in un'ora questi ragazzi sono riusciti a fare dei vasi e soprattutto, e hanno impostato, installato Blender da zero, e soprattutto hanno capito che esiste un modo di utilizzare uno strumento open come il Blender, ormai voi lo sapete già perché ve lo sto facendo vedere in tutte le sales, ma comunque hanno capito che è facile, nonostante il fatto che Blender sappiamo tutti che ha delle complicazioni, ma se è insegnato in un certo modo riesce a prendere, no? E quindi riesce a essere visto proprio come un strumento per fare qualunque cosa. Questo è quello, cioè io sono molto soddisfatto anche di questo lavoro di Giovanna. Ah, ecco Giovanna che dice che sta preparando anche un'altra cosa simile, spero che anche altri di voi vogliano fare qualcosa del genere in queste rassegne educative che non necessariamente a nome Edu3D, anzi noi non è che vogliamo fare nulla di particolare, a noi ci interessa che, a me in particolare, ma insomma tutto lo staff di Edu3D ci interessa che queste cose vadano avanti e che vengano riconosciute, insomma che si possono usare questi strumenti visto che ci sono e sono gratuiti e secondo noi è la cosa ideale da usare nelle scuole. Poi vabbè abbiamo testurizzato il vaso e qui abbiamo avuto, beh tante, 11 più 5, quindi in realtà abbiamo avuto 16 persone che hanno testurizzato il vaso, molto bello. abbiamo avuto diverse persone che sono cimentate con le tazze, quindi tazze fatte con la tecnica di Anni e credo anche con la tecnica di Elisabetta, quindi quello ho preso molto, vabbè poi ci abbiamo visto un po' di cose e poi finalmente abbiamo fatto Archimesh, quindi Archimesh vedo che apparentemente Archimesh, una ventina di voi su per giù riesce a usare Archimesh, quindi ha consegnato il lavoro su Archimesh. Diverse persone, stiamo parlando di 23 persone, hanno fatto il cavallo, la bottiglia invece l'hanno fatta addirittura in 32 addirittura, adesso poi tutti questi vi consegnati bisogna correggerli. Magari vi faccio dare poi una mano da Eva che fa tutto se c'ha voglia, tempo più che altro. Poi abbiamo fatto gli scacchi e qui abbiamo anche qui una grossa percentuale di persone, quindi 27 più 3, siamo 30 persone che hanno fatto gli scacchi, quindi con più o meno successo e poi sostanzialmente questo, quindi il panorama è abbastanza ricco, ma sostanzialmente la cosa fondamentale di questo corso è stata quella di cercare di insegnarvi Archipac e Archimesh. Ah ok, e quindi il GB Prof dice questo. Ora facciamo soltanto un attimo di riepilogo concettuale insomma di quello che è. Al termine di questo corso voi avrete capito che Blender è molto più ricco di quello che sembra, in quanto alla voce preferenze utente e negli add-on quindi gli add-ons. Qui vedete che abbiamo una quantità mostruosa, degna di interesse, insomma di add-on. Ognuno di questi add-on meriterebbe da solo, diciamo, se non proprio un corso, quantomeno una settimana di corso o vabbè, dipende. Alcuni sono cose molto semplici, altri sono cose un pochino più complicate. Molti di questi add-on sono disponibili automaticamente installando Blender, altri si trovano andando in giro su internet. Ad esempio questo Screencast Keys, che è quello che permette di vedere i tasti premuti, era una cosa che c'era su Blender fino all'anno scorso e poi a un certo punto l'hanno levato. Quindi per riuscire a rimetterlo bisogna andare a cercare appunto Screencast Keys. Quindi intanto ve lo faccio vedere, forse ve l'ho già fatto vedere, ma Screencast Keys Blender 279, perché la gente dice dove sono andate, where are my Screencast Keys, e sapendo usare Google si riesce in qualche modo a trovare il link. Ad esempio in questo caso il link Screencast Keys è questo. Quindi download it, qui abbiamo un pezzo, qui abbiamo questo scriptino, che è un filetto, che nel momento in cui si fa tasto destro salva link come, viene salvato con un solo space view3d-screencastkeys.py e poi questo file può essere importato direttamente dentro Blender. Ok? Quindi, vabbè, altri esempi notevoli, insomma, molti non li conoscono anch'io, di queste. Però ad esempio per l'architettura possono essere interessanti che conoscono almeno il Measure It, che permette di avere le misure. Anche se abbiamo visto che Archipack lo fa, quindi fa vedere le misure delle istanze create, però Measure It è un add-on che permette di verificare, insomma le misure. Infatti, tra l'altro, premendo sulla freccina, vedete che dice Tools for Measuring Objects, e poi se siete fortunati, cliccando su Documentazione, ecco, tipicamente qui manca, però se si fa Measure It, in questo caso Blender, abbiamo la possibilità di torre di video, che spiegano come funzionano, e degli articoli. Insomma, ci sono delle, comunque, Blender, questo, insomma, su GitHub, e ci sono delle documentazioni in cui spiega come funziona il tutto. Ok. Sì, infatti, volevo quasi accennarlo. Fra tutti questi plugin, uno dei più interessanti, che, non stiamo dicendo qualcuno, sono il... Ah, Extra Objects, questi qui sono degli oggetti extra interessanti, credo che siano dei bulloni, qualcosa. Tra l'altro, quando cliccate su questi oggetti, su queste cose, lo vi dice dove appare, quindi sarà su Add, Curve, Extra Objects. Insomma, qui ci sono IvyGen, credo che... Ivy, cosa sono? Sono... non vigne, come si chiama? L'Edera. Quindi questo credo che produca delle cose tipo Edera. Sì, esatto, tipo per fare, suppongo, delle... o dei pati, insomma, delle cose su cui si arrampicano delle cose. Il Sapling, 3Gen, serve per creare degli alberi. Anche se, francamente, devo dire che l'anno scorso, quando abbiamo lavorato sugli alberi, c'eravate qualcuno di voi quando abbiamo fatto il corso medievale? Sì, c'erano diverse persone e avevamo visto che in realtà c'erano alcuni programmini che erano un pochino più comodi di questo qua. Quindi per usare questo plugin, questo add-on, Sapling 3Gen, si può usare ma è un po' scomodo. Però comunque c'è gente che anche solo con questi add-on è riuscita a fare parecchie cose. Add Landscape, questi credo che facciano proprio dei paesaggi, quindi credo che permettono proprio di produrre delle strutture geografiche come quelle che abbiamo visto prima. E poi abbiamo finalmente i nostri Archimesh e Archipac. Allora, Archimesh, che qui è la 1-1-4, e qui abbiamo Antonio Vasquez, che l'ha fatto Antonio A, e anche qui probabilmente se lo facciamo non ci dice nulla, perché purtroppo è baccato un po' il sistema. però, vediamo, niente, qui sono gli add-ons. Adesso qui cerchiamo Archimesh. Ecco, Archimesh. Abbiamo forse qualche cosa. Ah sì, the documentation here. Quindi potete fare questo giro qua che ho fatto, e facendo... eh no, manca. E allora, niente, dovete ricorrere a fare la googlata, quindi Archimesh, Blender, Add-on, e quindi da qui avete sia dei video che vi spiegano, e poi ci c'è proprio il sito GitHub, da cui si può scaricare. Oltretutto, eventualmente, anche su Archimesh è possibile che ci siano delle versioni nuove, anche se non ne sono sicuro. Qui l'ultima versione di Archimesh è la 1.1.2 e vediamo qual è la versione di Archimesh che ci viene data. Vi ho detto 1.1.2 E noi qui vediamo la 0.1.8, quindi... no, aspetta, questo è Ant. Archimesh 1.1.4 Ah, quindi in realtà siamo abbastanza lineati. E Archipacca, invece, che abbiamo visto l'altra volta, che la versione normale con cui esce su Blender, 2.79B, è la versione 1.2.8, ma noi siamo riusciti a installare anche la 1, sia pure con qualche piccolo imbarazzo, la 1.3.8 e la 1.4.1. Io dicevo, mi orientavo sulla 1.3.8 piuttosto che sulla 1.2.8 soltanto perché la 1.3.8 aveva delle potenzialità in più, nel senso che potevate costruire anche i, come si dice, i mobiletti che non c'erano nella versione 1.2.8. la 1.4.1 invece è, diciamo, quella sperimentale. Se per caso voleste riprovare, io ho fatto i video, comunque, Archipacca. cerchiamo GitHub. GitHub, non so, sapete tutti cos'è GitHub? Domanda, sì, sì. Ah no, ecco qualcuno che dice no. GitHub è un repository che ormai è diventato il punto di riferimento di tutti i progetti open source mondiali. Quindi se voi cercate su GitHub, Wikipedia, tanto per avere una definizione, ci abbiamo anche in italiano, è un servizio di hosting per progetti software. E la cosa interessante è che GitHub si chiama così dalla parola Git, dalla parola Hub. Hub è ormai diventato un sinonimo di, diciamo, centro, diciamo, qualcuno di voi che sa l'inglese. Non è proprio un marketplace, è proprio un punto di diffusione. Aspetta, Hub in italiano. Hub, traduzione. Sapete tutti usare Google per tradurre nell'inglese l'italiano? All'Hub, beh, anche se ovviamente è un po' casino, quindi bisogna sempre, centro. Quindi Hub viene tradotto molto spesso come centro. Qualcuno di voi? No, ma non sto usando Google Translator, sto usando Google come ricerca di dizionario generalizzato. In questo momento, ad esempio, sono su Contextreverso.net e mi offre, diciamo, tutta una serie di traduzioni che comunque tendenzialmente sono tipo centro. Infatti, it's the hub of the entire newspaper è il centro dell'intero giornale. Centro nel senso di punto nevralgico, quindi punto di divulgazione. Cuore, ecco, il cuore. Potrebbe essere una traduzione ottima. Quindi GitHub sostanzialmente è un'azienda, fulcro, anche bello, quindi è un'azienda che in realtà ci fa anche un po' di lucro per certi versi, che però rappresenta il punto in cui si diffonde in questo momento il 95%, il 90% di tutto ciò che è open source. Quindi, sappiate che tutto ciò che è open source viene ospitato qua dentro. Anche High Fidelity, tanto per dire, c'è anche su GitHub. Quindi se voi cercate High Fidelity, chi ha fatto il corso con me sa che High Fidelity è un prodotto open source e per essere open source questa è una specie di certificazione quindi compare qua. Quindi, tornando qua a Archipack GitHub, abbiamo sostanzialmente l'accesso a questo sito. Adesso voi vedete che io ho anche questo indice di tutti i file, ma questo è perché ci ho messo un plugin di Chrome che mi permette di navigare dentro GitHub. A voi probabilmente non mi comparirà. C'è di tutto, tra l'altro ci abbiamo messo anche cose nostre e tra l'altro ho fatto anche un paio di anni fa anche un corso dove insegnavo alle persone a usare GitHub per mettere i propri script, quindi anche per fare delle lezioni. Questo può essere interessante perché non è facile usare GitHub, però è libero, è gratuito e permette di fare un sacco di cose. Ok, allora, però giusto per capirsi, quando andate su Archipack la cosa che si trova è qua sono le release, le release sono le consegne e qui abbiamo la 138 unofficial, unofficial, e qui abbiamo se lo clicchiamo vedete che compare il source code, il source code fate tasto destro save link, salva collegamento con nome e vi salva Archipack 138.zip. Ecco, poi una volta che ve lo scarica è sicuro, beh, allora, GitHub di per sé è abbastanza sicuro, poi è possibile, ah, è sicuro in che senso? Domanda? Ah, affidabile nel senso che le cose messe lì si conservano nel tempo, forse, in questo senso è abbastanza sì, diciamo che moltissime cose, diciamo che, come dicevo prima, il 90% dell'open source è su GitHub, ah, sono giuste, beh, sai cosa, il problema di GitHub a volte è che trovi anche fin troppo, nel senso che magari trovi di una cosa 20 versioni e poi devi essere anche in grado di capire qual è quella giusta, no? Però, comunque, quando entri su Archipack, in questo caso ce n'è una, sostanzialmente, la principale ti viene offerta che è questa di S-Lager. Però, se andate a vedere qua, vedete che già di questo Archipack ci sono 17 fork, 17 fork vuol dire che ci sono delle persone che l'hanno, essendo open source, il concetto dell'open source è che tutto ciò che è open source può essere modificato da chiunque. Quindi, se io clicco qua, vado a vedere che ci sono 17 persone che hanno modificato questo pacchetto, quindi, quando io parlo di Archipack intendo il principale che è questo e GitHub mi fa vedere la gerarchia da dove vengono le cose, quindi, se io fossi finito per errore in un repository tra virgolette sbagliato, c'è questo qua, per esempio, questo qua sembra quello giusto, ma vedete che c'è scritto forked from in cima, forked from vuol dire che questo qui non è l'originale, ma l'originale è questo. Quindi, insegno anche un attimo come navigare, mentre invece in Sleger Archipack vedete che questo è l'archivio originale. Quindi, dicevo, l'unico rischio di GitHub non è che ci siano delle cose false, ma che essendo che c'è veramente tantissime cose, quindi su GitHub c'è sostanzialmente milioni di progetti, all'interno di questi milioni di progetti è un po' come nella famosa come si chiamava? voi che siete letterate la libreria famosa dove c'erano tutti i libri scrivibili immaginabili. Vediamo un po' chi è che arriva prima e che in mezzo a questi libri poteva esserci anche dunque, non è una libreria di Alessandra quella che dicevo, credo che fosse un'invenzione letteraria di uno scrittore che diceva che era una libreria in cui c'erano tutti libri immaginabili, quindi tra le altre cose c'era anche un libro che rappresentava la vostra vita la vostra biografia e quindi le persone andavano in questa libreria a cercare la storia della propria vita sapere come andava a finire solo che il problema è che essendoci tutte le varianti potevano trovare anche la biografia della loro vita ma non quella giusta quindi in ultima analisi potevano non trovare nulla. ma è una cosa credo che sia un autore sudamericano se non ricordo male ma è famoso speravo che voi mi aiutaste un po' meglio in quanto insegnante. Allora open source vuol dire che si può modificare tanto per dire se questo archipack io trovasse un problema e fossi in grado di aiutarlo potrei sempre o fare un fork quindi io potrei dire faccio un fork e quindi prendo una copia mia e allora modifico quello che mi interessa oppure ancora ci sono da qualche parte le pull request le pull request sono dei modi per chiedere al gestore di quel progetto di fare una correzione quindi sostanzialmente si vede un file sbagliato e gli si manda i file giusti però non è proprio una cosa per deboli di cuore insomma quindi è già per nerd infatti io sono Zaffone non mi viene non mi viene comunque dicevo una volta scaricato archipack esatto per smanettone quindi se non siete proprio super nerd ho seguito un corso di git di git hub ce ne sono magari se può capitare in futuro ne potrei fare uno anch'io come ne avevo fatto due anni fa ma dunque archipack 138 allora normalmente i .zip si installano direttamente da dentro da dentro blender quindi si va su qua e poi si dice installa don the file si va a cercare dove avete il .zip e poi si clicca si seleziona il file in qualche modo e poi si fa installa don the file con archipack su mac mi funzionava ma su windows almeno l'altro giorno che ci ho provato per tutto un pomeriggio mi ha dato diversi problemi quindi tra parentesi chiedevo a voi se qualcuno di voi l'aveva fatto con buoni risultati di installare don zip vedo che anche altri non l'aveva fatto quindi alla fine mi sono il modo cioè in realtà come voi avrete capito io non so cosa dove arriverò però ho forse un po' di caparbietà che ho visto che anche alcuni di voi hanno per cui quando ho visto che non funzionava ho provato con metodi un pochino laterali e sono andato a vedere dove era installato l'archimesh precedente e a questo proposito vi consiglio everything almeno su windows perché permette di vedere in maniera velocissima dove sta archimesh vedete che qui abbiamo archimesh qua ho visto che era installato dentro il direttorio la cartella che era il nome dove l'avete installato sotto scripts addons e quindi sono andato sostanzialmente dove è scripts addons quindi ho visto che c'era questa cartella che si chiamava archimesh e ho fatto che chiamare per dire ho rinominato la cartella precedente con f2 l'ho chiamata per dire archimesh appunto hold ok vedete che si era nominata e poi sono andato sul vediamo un po' se ce l'abbiamo ancora il nostro questo l'ho già perso quindi glielo chiedo anche qua al mio everything 1 3 8 ma dunque non è che sostituisca se non fate questa rinominazione lo fa nel senso 1 3 8 abbiamo archipack 1 3 8 punto zip quindi vedete che si è installato questo quindi sposto archipack 1 3 8 sto usando 7 zip non so se lo usate anche voi io lo uso perché è un pochino più veloce del zip normale archipack 1 3 8 e come questo qui blender 2 slits non e perché non ho chiamato questo archipack old ok poi in realtà mi aspettavo che lo vedesse direttamente anche in questo modo ma ho dovuto chiamarlo cioè il modo migliore per farlo vedere era di farlo vedere cambiandogli di nome infatti io rinominando adesso non vi faccio vedere tutto il giro ma sostanzialmente quello che succede ah perché era archimesh punto old allora quello avevo rinominato archimesh scusate quindi archipack punto old archimesh in realtà dovevamo lasciarlo tranquillo quindi archipack 1 3 8 e a questo punto o lui appare così oppure semplicemente lo richiamate archipack una volta rinominato l'altro e a quel punto se avete fatto se avete fatto le cose più o meno giuste quando andate qui sul vostro sugli add-on quindi preferenza utente andate su cercate archi trovate tutte le archimesh questo e poi archipack trovate tutte le versioni che avete installato in questo caso la 128 ok ok sì ma tu Eva se per caso vuoi riottenere la versione di base hai due due sistemi o vai qui a vedere sulle release e vedrai che c'è la 128 da qualche parte c'è next ecco questa qui credo che sia questa il 25 giugno 2016 ma questa è la 125 è la 128 forse qui c'è la 127 torniamo a previous ma questa è la 129 beh la 128 evidentemente non c'è sul sito ma la 127 129 dovrebbero essere la cartella sua beh puoi fare di nuovo lo trucco al contrario nel senso che lo che gli fai il renomino cioè gliela metti al posto dell'altra quindi cioè in teoria vedi che qui ci sono appunto queste queste cartelle tu volendo glielasci una sola quella con archipack ma la 138 io trovo che sia molto comoda e tra l'altro la cosa che non so se avete visto nei miei video che mi piaceva moltissimo era questa cosa che poi potevate dall'alto insomma andare in crea era crea no c'è proprio è abilitata controlliamo preferenza utente archipack 138 ah vedete che c'è proprio archipack ok quindi c'è qui la linguetta archipack e qui c'è questo bellissimo disegno che permette di disegnare i muri e se io clicco qua vedete che mi disegna il muro e se metto x me lo allinea sulla x se premo ctrl me lo allinea alla griglia più o meno col ctrl e poi posso forse è meglio mettere 5 e poi potete allungare questo muro prendendo un'estremità e portandola giù eventualmente facendo y ctrl sempre per alinearlo e poi potete fare tipo così e a quel punto avete quello che ho fatto vedere nel video la possibilità anche di chiudere perché qui c'è un'opzione che chiude sulla destra avete il close che chiude sostanzialmente il muro e l'altra cosa interessante era che posso sempre fare disegna e estrarre sostanzialmente dei muri anche in mezzo avete bisogno forse prima selezionare l'oggetto e poi fare disegna da qua non mi viene più forse devo fare amor no comunque nei video che ho fatto c'è il sistema che in questo momento mi sfugge la mia dislessia non mi esce forse ah si forse bisogna farlo da qua evidenziando questo e poi muro ecco così vedete che prendendolo da qua si può riuscire e anche qua abbiamo y per farlo limpido così ok e poi potete fare insomma delle mura ecco questo tipo di cose in Archimesh non è possibile sostanzialmente cosa succede è che questo muro qua diventa automaticamente collegato con questo altro muro per questo io seleziono questo muro e poi lo sposto in teoria ah no aspetta dobbiamo selezionare il cardine questo quindi se spostiamo il cardine di tutta la nostra struttura vengono trascinate tutti i figli non so se nel video vi avevo fatto vedere bene questo concetto di cardine comunque facendo in questo modo si riescono a strutturare delle stanze e poi c'era anche l'opzione dato un muro per disegnare per fare lo slab quindi per fare il pavimento e quindi avete già ottenuto questo effetto in più c'era la possibilità di disegnare le porte e se avete creato l'indice all'inizio di tempo potete mettere la porta e vedete che la porta si mette da sola ecco questa cosa qua mi sembra che in Archimesh non esista mi confermate che in Archimesh non c'è questa facilità e tra l'altro la porta sembra che sia già che faccia già il buco da sola e questa è già una cosa che è già solo per questo credo visto che molti di voi hanno avuto dei forti problemi a fare i buchi poi purtroppo non ho avuto un tempo incredibile per testare Archipack quindi mi spero che voi altri abbiate anche un pochino più di tempo però non so tipo Windows disegna e prendiamo questa finestra oblò mi sembra molto interessante vedete che posso mettere l' oblò metto un oblò lì e poi c'era anche queste sono finestre strane anche no? queste rotonde la finestra rotonda mettiamo la finestra rotonda e vedete che queste finestre si dovrebbero aprirsi forse forse devo fare rz no? faccio rz ecco rz per farla aprire nella direzione che mi interessa e vedete che è bucata anche questa finestra vedete che nonostante la mia dislessia nonostante che abbia cercato il archipacca di farmi gli scherzetti anche stasera comunque siamo riusciti a creare delle strutture diciamo senza troppa fatica nei video non è ancora riuscito a raggiungere dei mobiletti quindi eventualmente dunque dove sono i mobiletti? kitchen forse kitchen ok quindi cosa facciamo kitchen qui abbiamo dei mobiletti mobile Ikea prendiamo il mobile Ikea e poi ah si me l'ha messo qui e poi questo mobiletto però vedete l'ha messo nel lato sbagliato del del coso quindi bisogna poi trascinarlo in qualche me aspettavo che lo allineasse probabilmente ah no forse sapete cosa che si deve fare cancelliamo bisognerà probabilmente selezionare il muro e poi a questo punto si no lo fa sempre un pochino stranito però dovrebbe esserci la possibilità di cambiare poi tutte le le caratteristiche dei mobiletti e comunque si spostano si spostano o si ruotano perché credo che se sia anche RZ si può ruotare e poi insomma si può fare Rp Y per aprire no questo qui lo apre nel modo sbagliato beh in qualche modo ecco sì invece qualcuno di voi c'era riuscito so che ho visto qualcuno che anni che aveva fatto un'e cucina intera sì e inoltre come vedete io adesso non ho ancora esplorato bene i mobiletti di Archipack comunque nulla vieta di installare anche Archimesh eventualmente qualcuno mi aveva chiesto prima ma se io voglio disabilito Archipack per dire e metto Archimesh e a questo punto dovrei averci la possibilità di lavorare con le cose di Archimesh non ho ancora provato a vedere come funziona però dovrebbe esserci rail panel cabinets abbiamo i cabinets e sui cabinets abbiamo i cabinets questi qui che vedete che un pochino si allineano ma bisogna poi giostrarli in qualche modo c'era qualcuno diceva ecco se no non è questo c'era una cosa che si selezionava mi si è piantato Blender ah ecco una cosa che succede quando si si pianta Blender c'è la possibilità di rientrare con recupero l'ultima sessione perché lui fa di salvatano che però ha recuperato una sessione sbagliato al solito ce la fa per un tentativo di muri che avevo fatto con con Archipack quindi si va salvato per mentori dovrebbe fare il salvataggio ogni tanto solo che questa sera non ha collaborato va bene allora io mi baso anche sul fatto della vostra capacità di esplorare anche da sole nel senso che io per ottenere quello che vi ho fatto vedere sostanzialmente mi sono messo a fare esperimenti ok e visto che dicevo che volevo fare una una sessione un po' più leggera stasera che è l'ultima se non avete delle domande adesso magari volevo portarvi su Archiland se vi va e poi comunque ripeto sicuramente alcuni di voi sono più bravi di me a fare queste cose quindi se qualcuno già alcuni l'hanno fatto tipo Lucia Elisabetta l'aveva fatto credo anche anni potete fare dei mini tutorial su alcuni concetti e magari sono riusciti a fare dei video insomma a spiegare come si fanno delle cose molto meglio di me invece per quanto riguarda la texturizzazione quella al momento l'ho sospesa parecchio perché ho visto che texturizzare in modo tale da essere compatibili con Sketchfab con OpenSIM eccetera è comunque una cosa non banale anche perché di fatto quando si lavora con Archipack Archimash loro prediligono se possibile il metodo di texturizzazione Cycles che però è un metodo che noi abbiamo usato pochetto infatti alcuni di voi tipo anni o altri che texturizzano o anche Gianfranco loro in realtà usano per texturizzare il metodo normale normale vuol dire Blender Render quello per intenderci Render Blender il problema di Render Blender è che Render Blender con la nuova versione di Blender che sta uscendo sta uscendo proprio in queste settimane non sarà più disponibile quindi l'unica cosa disponibile sarà o Cycles o quello che è Eevee ecco tra l'altro visto che ci siamo vi faccio vedere come come apparirebbe Blender nuovo e c'ho qui qualche versione spero più recente questo qui 28 settembre andiamo andiamo per data questo qui 28 settembre proviamo a lanciarlo per darvi un'idea di come apparirà Blender dal prossimo anno come vedete questo qui è Blender sembra lo stesso ma in realtà vedete che ha sostituito dei simboli invece che il tool shelf che c'era nel Blender 2.7 abbiamo queste cose ma per il resto non è molto diverso nel senso che con tasto destro si seleziona quindi con tasto destro si seleziona e poi con tab si va in edit mode e vedete che quando si è in edit mode cambia questa cosa qua in realtà a me tutto sommato un pochino mi confonde però poi si clicca su un tasto si fa G quindi sostanzialmente le operazioni più fatte Z ah ecco c'è questa cosa qua che hanno messo il fatto di Z ha capito che volevo fare il cambio di cose però in realtà io volevo fare G Z per spostare in alto e quindi si riesce sostanzialmente a cioè tutti gli shortcut che funzionavano in Blender normale funzionano anche qua solo che sono messi in maniera leggermente diversa quindi qui ci sono le varie cose però e hanno messo sostanzialmente tutto ciò che prima era in basso l'hanno messo in alto quindi hanno cercato di concentrare l'attenzione di lavoro su questa area che è in alto invece che far oscillare fra l'alto e in basso e quindi il prossimo anno il prossimo anno probabilmente i prossimi corsi di Blender e probabilmente li farò su Blender 2.8 beh tenete conto che Blender ci ha impiegato dieci anni forse no ma otto anni tutti per scambiare versione perché l'ultima versione l'ultimo cambio epocale di versione è stato nel 2010 2011 con Blender 2.5 il Blender precedente a questo che voi siete abituati era una cosa allucinante per intenderci ho ancora un video di Blender Blender 2.49 vediamo un po' se lo troviamo aspetta video prendiamo un po' qualche video installation ecco questo qui era un video fatto nel 2010 il 23 novembre quindi ecco vedete questo qui era come appariva Blender 8 anni fa e questa era una cosa abbastanza tremenda perché qui sotto vedete queste finestre sotto qui era un rito voodoo capire quali tasti premere io non so chi di voi sapesse usare il Blender 2.49 ma era veramente una cosa assurda non si sapeva mai che cosa si premeva e perché c'erano tutti queste scritte che il 90% erano incomprensibili invece adesso tutto sommato è il Blender che c'è adesso questo qui vabbè adesso voi ormai l'avete imparato vi sembra normale naturale ma è decisamente più umano questa cosa qua è anche più carino da vedere va bene allora se volete possiamo fare questa piccola escursus quindi vi spiego come si fa ad andare su Archiland quindi voi fate ctrl M oppure cliccate qua sotto se cliccate qua sotto vedete la zona in cui siete su cui ecco sta arrivando vedete che noi adesso siamo qui che siamo in Edu3D ecco vedete che subito sotto di Edu3D c'è quest'altra low poly e subito sotto c'è Archiland se per caso e quindi fate doppio clic qua e vi muovete verso Archiland oppure semplicemente scrivete Archiland qua e vi trovate subito al centro di Archiland quindi ci troviamo lì un secondo tutti ci siete? avete capito? si al centro quindi scrivete Archiland e andiamo al centro di Archiland ok cominciate ad andare che vediamo un po' io aspetto un attimo vedo che un po' di gente dovrebbe sparire ok adesso passiamo di lì anch'io quindi facciamo teleport dunque chi di voi non sa entrare in OpenSIM deve o non è mai entrato deve crearsi un account su Craft quindi sostanzialmente deve cercare adesso vi do il link che è questo qua quindi andate su questo link qui c'è la possibilità di registrarsi quindi si fa registrare un avatar e arriva una mail al solito e soprattutto poi a un certo punto bisogna scaricarsi un viewer e noi scarichiamo un viewer che si chiama Firestorm comunque se non è obbligatorissimo se non ve la sentite o non avete abbastanza Firestorm non è questo Firestorm viewer ecco abbiamo praticamente il programmino che permette che permette sostanzialmente di scaricare il viewer di Firestorm e con quel viewer quando si entra adesso vi faccio solo vedere una cosa qui per chi non l'avesse fatto quindi io esco da Firestorm e poi ci rientro ok su craft ecco qui la cosa interessante è specificare sostanzialmente il mondo la grid tra le grid disponibili c'è la craft che è questa qua dove stiamo andando noi si mette il vostro nome e cognome eccetera e qui in questo caso potete mettere Archiland sì sì esatto tra parentesi da Edmondo potete anche navigare direttamente verso craft nel senso che c'è la possibilità di si chiamare Hypergrid adesso non non riesco a dirvi tutte le istruzioni per il teleport dal mondo ma qualcuno se chiedi te lo te lo dirà sul gruppo in facebook ok allora qui come vedete siamo in siamo in questa sim che ho strutturato in pezzettini nel senso che questo è il punto centrale dove entro io e poi ci sono dei lotti di terra che come succede spesso in questi casi dovete impossessarvi di un lotto e in questo lotto dovreste riuscire a fare l'import delle vostre case come vedete abbiamo già delle case laggiù questa qui vivere una vita inimitabile questo è quello che sia Gianfranco Berbone che ha fatto questa cosa la stanza dell'esteta che l'ha arredata già come suo solito in modo completo magari adesso c'è un po' di traffico quindi può darsi che open sim non ti lasci portare facilmente qui c'è qualcuno vediamo un po' che cosa ha fatto la casa dell'avatar Ugo Gelli ok quindi ha fatto questa casa che è abbastanza già creativa analisa qualcuno riesce a mandare un teleport ad analisa se no analisa puoi anche uscire un attimo da da Firestorm e poi fare come ho fatto io mettere direttamente Archiland come punto di ingresso vediamo un po' se riesco a qui sono ok allora questo qui per dire mi ha detto Ugo Gelli che ha già fatto questa casina interessante poi c'era quest'altra casa in costruzione o già costruita vediamo un po' di chi è questo qui è di Rossano Marano che ha fatto una casa semplice ma efficace anche texturizzata quindi lui è riuscito a texturizzare anche gli interni quindi eventualmente se vuole poi aiutare gli altri a mettere i libri e tra l'altro quei libri ce l'ho provato ma avevano fatto un po' impazzire ah in Firestone non senti pronto adesso dovresti sentirmi che sono ho rialzato ok qui poi c'è qualcuno qui che sta facendo degli esperimenti evidentemente che è Maria Luisa Zonno che ha preso degli oggetti da altre grid si può fare cioè non è vietato qui tra l'altro ho messo proprio degli scaffali con delle con delle scarpe quindi le ha prese probabilmente andando in giro e se volete anche voi per me va bene non è non è vietato c'è anche un letto poi vediamo un po' cos'altro è stato creato qua questo l'abbiamo visto prima questo ah questa è una casa spaziosa che è fatta da Rosalia Renda molto 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 chiara ah una cosa che mi era avuto in mente poi qui aspetta finiamo un po' il giro piccolo giro insomma di quello che c'è Giovanna già non ne rendo ok vedete che Giovanna si lamentava ma qualcosa è riuscito a fare e direi che è interessante intimo ah forse forse qui c'è qualcosa da no eh sì qui probabilmente queste porte questa cosa qua bisognerà metterci un modificatore solidify non c'è niente da fare nel senso che dovete prendervi il gruppo quindi per prendervi il gruppo dovete cercare il gruppo su ctrl h mi sembra poi contatti gruppi cercate search edu3d e poi una volta non so se avete capito il giro cioè qui con sui contatti prendete il gruppo se già non ce l'avete e una volta che avete il gruppo avete il diritto di costruire quindi potete costruire rezzare qua è chiaro come funziona e poi semplicemente per prendere il terreno per prendere il terreno andate in un'area libera e lì ci mettete un qualche cosa anche una tipo qua che è stato messo una piastra di legno e in questa piastra basta che mettete la piastra in modo da fate capire che state che non è libera ok quindi allora l'idea è che dicevo non è obbligatorio nel senso che il scopo del corso non è quello di farvi costruire un OpenSIM però è molto bello fare una mostra insomma di quello che si è fatto come abbiamo fatto con Low Poly che è la sim qua dietro vedete quella lì la vedete tutti e i risultati di quel corso sono stati molto molto più in là insomma molto più grossi delle aspettative nel senso che avete visto hanno fatto delle cose assolutamente belle adesso qui non è detto che dobbiate per forza fare delle cose incredibili qua basta una casetta però è molto interessante se riuscite a produrre un risultato da mostrare ok io direi beh un'altra cosa che mi ero dimenticato di dire all'inizio ma avevo detto anche la volta scorsa visto che noi siamo tutto sommato i volontari e che un po' diciamo collaboriamo insieme e paghiamo per il server questo è un server che costa molto molto di meno di Second Life tra l'altro oggi ho trovato un articolo dove si evidenziava che una sim da sola su Second Life costava sui 1600 euro all'anno no quindi anche 1600 quando era scontata ma il doppio quindi sui 3000 euro all'anno e quindi erano delle cifre spropositate invece in OpenSim il costo di un server è molto molto più basso quindi ci orientiamo attorno ai 50 euro al mese ma in 50 euro al mese ci possiamo far stare tutte le sim che vogliamo sostanzialmente e quindi ad esempio tutte queste sim che vedete qua sono tutte spitate su un server che gestiamo stiamo pagando e in più paghiamo insomma prendiamo alcuni servizi tipo Zoom abbiamo il servizio a pagamento perché questo consente di andare oltre insomma il minimo quindi possiamo essere fino a 100 persone ed è di qualità maggiore se si paga un pochino che poi non è che siano cifre incredibili stiamo parlando di 15 euro al mese una cifra tutto sommato accettabile e qualche altro insomma abbonamento che facciamo quindi queste se qualcuno di voi vuole vuole collaborare mandando un piccolo contributo per il se la ritenete opportuno ecco non c'è nessun obbligo però può contattare me o Giliola cioè me in particolare perché vi do poi i riferimenti Paypal oppure un IBAN su cui se volete potete fare un piccolo versamento tanto per darvi un'idea e i versamenti che sono stati fatti oscillavano fra i 10 addirittura qualcuno ha versato anche 100 euro però insomma non c'è bisogno di versare grosse cifre quindi non ci guadagniamo era solo per insomma per finanziare queste cosettine che facciamo ok ci sono c'è qualche se non c'è qualche domanda particolare ulteriore io finirei un attimino prima non so se Giliola c'è ancora vediamo un po' forse se ne è andata prima non so Seva se tu vuoi dire qualcosina forse anche degli altri corsi no perfetto allora io vi ringrazio moltissimo comunque ricordate che non è finita qua nel senso che sul gruppo noi andremo avanti a fare queste cose ma soprattutto adesso comincerò poi a a progettare e costruire il prossimo corso che inizierà per questo punto fra almeno un mese che è quello poi di coding su Godot e probabilmente anche su Unity3D adesso bisogna vedere pochi partecipanti tra parentesi ho visto sto approfondendo Godot in questi giorni Godot è un motore per fare giochi videogame e ho visto che in realtà Godot ha molte cose molto simili molto potenti quindi potrebbe valer la pena anche di approfondirle un po' comunque lo vediamo chi di voi eventualmente fosse interessato si scriva e c'è proprio il ci chiede insomma gli estremi di Google Classroom e invece la correzione di compiti la farò diciamo all'inizio dei compiti di Blender la farò la settimana prossima con calma e chi di voi invece riesce a essere a Lucca eventualmente ci vediamo di persone va bene allora grazie a tutti e aspettate che provo a spegnere il